Andrea Biancani, il candidato per il centro-sinistra a Pesaro, ha presentato oggi la sua lista, una lista composta da 15 donne e 17 uomini, tante le realtà coinvolte per un coinvolgimento totale della città. Questa è una lista che si chiama Biancani sindaco, quindi non ho voluto lasciare nulla di intentato, quindi è chiarissima, è una lista civica fatta da 32 persone di cui 15 donne e 17 uomini, tutte persone di cui ho grande fiducia, grande stima, persone che hanno un ruolo in città o dal punto di vista sociale o dal punto di vista lavorativo, persone veramente di grande valore. Ricordo che in questa lista su 32 persone, solamente in 4, hanno già fatto un'esperienza in consiglio comunale, tutte le altre, quindi in 28, non hanno mai avuto un'altra esperienza e quindi il fatto che hanno accettato, che il fatto che si sono messi a disposizione è sicuramente una bella sfida, più che per me ma soprattutto per loro. Lunedì presenteremo tutta la coalizione con tutte le liste, non avevo dubbi che la lista di Belloni alla fine aderisse al nostro progetto politico per la città e sono contento comunque che ha aderito, ma io penso che questa amministrazione è praticamente la squadra di più, oltre alla lista civica Biancani sindaco, è fatta dagli attuali liste che hanno governato gli ultimi anni questa amministrazione. Io penso, ho detto a tutti, che comunque ognuno ha la competenza di scegliere le deleghe del sindaco, quindi sarà il sindaco a dare le competenze e sarà il sindaco a togliere le deleghe se ci sono le tensioni. Io penso che le tensioni non ci devono essere, in questo momento il nostro avversario, gli avversari non sono all'interno della stessa coalizione, ma gli avversari sono di fuori. I assessori oggi nessuno è garantito, come ho già detto, a parte l'assessore Vimini con il quale abbiamo fatto questo accordo, che comunque si è candidato, darà il proprio contributo a questa lista, tutto il resto della giunta è da fare e quindi ho invitato a tutti a correre, a correre molto perché la vittoria vogliamo vincere, vogliamo vincere il primo turno, ma la vittoria non è per niente scontata ed è necessario che ogni consigliere che ha deciso di far parte di queste liste dia il massimo per poter vincere e per poter riuscire a dare il massimo e quindi vincere e vincere bene.